ciao a tutti allora vi dico da subito che questo video penso che sarà lunghissimo perché vi devo far vedere un sacco di prodotti alimentari che ho finito in questo ultimo periodo e tra l'altro sono contentissima perché sto da sola e quindi posso approfittarne fare il video in cucina e quindi stare più comoda sul tavolo altrimenti non avrei saputo dove mettere tutte le cose che devo farvi vedere e pranzo anche con voi oggi perché mi sono appena preparata l'estratto questo è il mio pranzo e ho fatto l'estratto con tre arance un po di insalata due carote una mela e il limone e mi pare basta e quindi questo è il mio pranzo che adesso praticamente bevo qui insieme a voi allora iniziamo subito ho finito queste due barrette di noberasco di cui una ve l'avevo già fatta vedere in un altro video questa qui che era quella con melograno nocipeca nel noci del brasile ed è buonissima ve ne avevo già parlato quindi non mi dilungo quest'altra invece è con cranberry mirtilli neri e semi di chia ed anche questa è buonissima ora non so se riesco a leggervi gli ingredienti perché ho strappato la bustina comunque sono sciroppo di riso noci sgusciate anacardi sgusciati cranberry 12,9 per cento mirtilli rossi americani succo di mela c'è una cosa che non riesco a leggere olio di semi di girasole sciroppo di agave crispis di riso integrale mirtilli selvatici semi di zucca lamponi olio di semi di girasole semi di chia malto destrino livello spinoso aroma naturale ed agricoltura biologica allora io mi avvicino perché ho paura che se no non mi sentite perché ho notato che avevate ragione praticamente dal telefono del mio ragazzo lui ha il samsung s3 il volume anche se lo mette al massimo è bassissimo invece dal mio cellulare io non me ne rendevo conto perché a me anche se il volume è al minimo l'audio si sente altissimo quindi io penso che dipenda molto dal cellulare o dal computer con il quale voi vedete il video al mio telefono si sente benissimo e perfetto perciò io non me ne ero mai resa conto quindi cerco di avvicinarmi quando parlo per far sentire meglio insomma comunque poi ho finito e questa è una grandissima scoperta del periodo questi burger di quinoa con ceci e rosmarino senza glutine e senza soia che ho preso all'md e sono favolosi ragazzi se li trovate dovete assolutamente prenderli costano abbastanza non sono sicuramente non hanno sicuramente un prezzo abbordabile però sono favolosi e questi allora gli ingredienti sono la quinoa integrale 50% ceci 25% farina di ceci fibra alimentare olio di semi di girasole farina di carruba sale rosmarino 0,5% aromi naturali io li ho mangiati sia cotti al forno sia cotti in padella con un filo d'olio in entrambi i modi sono fantastici ero andata a ricomprarli proprio qualche giorno fa e ne ho presi addirittura due ma purtroppo ho sbagliato e ho preso questi burger di quinoa e verdure grigliate e questi qui non mi sono piaciuti per niente purtroppo neanche un altro mi leggo gli ingredienti di questi che sono quinoa integrale 50% verdure grigliate in proporzione variabile 30% zucchini, melanzane, cipolle rosse, peperoni rossi e gialli, fibra alimentare, olio di semi di girasole farina di carruba, basilico, sale e aromi naturali questi qui se non vi piace la cipolla non ve li consiglio assolutamente perché si sente solo la cipolla li ho fatti provare anche a mia madre e anche a lei non sono piaciuti per nulla quindi insomma tra i due io vi consiglio sicuramente questi qui con ceci e rosmarino e non questi con le verdure grigliate poi ho finito queste patatine a rosmarino di kips penso con il 30% di grassi in meno comunque sono patatine fritte però sono buonissime perché hanno proprio il sapore delle patate cotte al forno sono favolose gli ingredienti sono patate, olio di girasole artoleico, aroma naturale contiene sale iodato, rosmarino in polvere e maltodestrine sicuramente non sono favolose però come ingredienti ma come sapore sono ottime e io queste le ho prese da Gran Risparmio se non ricordo male dove c'era il gruppo VG erano anche in offerta mi pare poi ho finito questi grissini integrali che io prendo sempre all'Eurospin però li portiamo sempre a casa del mio ragazzo perché comunque li mangiano anche il padre del mio ragazzo non lo so la sorella del mio ragazzo, il mio ragazzo, insomma tutti quanti quindi li portiamo lì e sono buonissimi gli ingredienti sono farina integrale di grano tenero, crema di lievito, olio d'oliva, estratto di malto d'orzo, sale iodato, glutine e glutine poi proprio ieri sera ho finito queste piadine con olio extravergine di oliva che ho preso al Conad molto buone, queste sono senza olio di palma gli ingredienti sono farina di grano tenero tipo 0, acqua, olio extravergine di oliva 7% sale, amido e lievito di birra poi ho finito questi biscotti della misura, privo latte, senza latte e uova, senza olio di palma biscotti con cacao e riso soffiato che vi avevo già fatto vedere in un altro video ve ne avevo già parlato, vi avevo fatto vedere proprio come era fatto il biscotto, è bello doppio e li ho mangiati anche inzuppati nel latte alla nocciola e nel tè e sono buonissimi anche inzuppati poi ho finito questi altri biscotti della Ecor biologici che si chiamano discolo con goccia di cioccolato pagati 3,40 euro senza olio di palma, presi in un negozio biologico che si trova qui da me gli ingredienti di questi sono farina integrale di grano tenero, fiocchi di avena, olio di girasole, zucchero di canna goccia di cioccolato, sciroppo di glucosio da mais, estratto di malto, agenti lievitanti, carbonati di ammodio, carbonati di sodio allora questi non mi hanno fatto impazzire, si sono buoni come biscotti però comunque le gocce di cioccolato sono molto poche ve lo dico, non sono dei biscotti che insomma ricomprerò perché a me non hanno fatto impazzire poi ho finito le solite fette biscottate della misura, quelle integrali sempre che io ricompro sempre perché sono le migliori che trovo e quelle le prendo al Conad anche se ne ho scoperto un altro che forse dopo vi farò vedere poi ho finito queste patatine di Amica Chips Alfredo, 600% naturale ortolana, croccante mix di ortaggi gli ingredienti di queste sono pastinaca, patata dolce, barbabietola, olio di girasole e sale marino praticamente sono queste patatine qui e sono buonissime però sono fritte ovviamente quindi non vi conviene mangiarne una busta intera tutta di colpo perché c'è chi l'ha fatto e si è sentito male poi ho finito queste crocchielle gusto ketchup che ho preso dove lavora il mio ragazzo e sono buonissime però gli ingredienti non sono favolosi anzi comunque sono farina di grano tenero, olio di girasole e artoleico, olio d'oliva, sale, preparazione aromatica gusto ketchup poi ci sono aromi, saltatori di sapidità, correttori di acidità, colorante, dulcolorante, antiossidante, estratto di rosmarino lievito di birra, morto di frumento e contiene glutine questi sono buoni da mangiare così una volta ogni tanto, non sembra ovviamente poi ho finito questi altri biscotti biologici presi sempre nel negozio biologico ho pagati 3 euro di sotto le stelle sono a forma di stellina e sono alla mila e carota però a me non sono piaciuti cioè ne ho provati 2-3 ma il sapore non era niente di che anzi non mi piaceva quasi per niente e sono biscotti senza uova, latte derivati e senza sale prodotti solo con olio extravergine di oliva gustosi e nutrienti ottenuti solo con ingredienti vegetali quindi alla fine praticamente questi biscotti li ha mangiati il padre del mio ragazzo poi ho finito questi 7 cereali con olio extravergine di oliva italiano che ho preso all'Eurospin ma sono uguali a quelli che trovate anche all'MD sono sempre 7 cereali, cereali contenuti all'interno sono gli stessi sono buonissimi e quindi niente, sono uguali poi ho finito questi cristini al camut biologici presi al conad con olio extravergine di oliva che sono favolosi, questi sono piaciuti tantissimo anche a mia madre ve li faccio vedere, qui ho preso, siccome ho comprato da poco un altro pacco ve li faccio vedere come sono sono così belli cicciotti e gli ingredienti sono farina di grano e cora san camut 84% olio extravergine di oliva, olio di riso, sale iodato, lievito di birra, farina di frumento maltato sto perdendo la voce perché sto urlando chissà se mi sentirete voi poi ho finito questi snack and go, gusto erbe, cottura al forno, salatura esterna, senza olio di palma presi all'aurospin, buonissimi, se li trovate prendeteli questi sono, cioè all'interno erano contenuti, 6 pacchetti da 35 grammi l'uno e sono veramente buoni gli ingredienti sono farina di grano tenero tipo 0 olio extravergine di girasole, olio di oliva, sale, lievito, farina ed estratto di malto d'orzo basilico, origano e prezzemolo l'origano e il basilico si sentono tantissimo, soprattutto l'origano perciò se vi piace provateli ecco si sta scaricando anche la batteria del cellulare allora mi sa che stoppo qui e riprendo dopo perché tra poco si spenderà il telefono eccomi di nuovo allora intanto ho bevuto il mio estratto e ho pulito l'estrattore e quindi riprendiamo il video e vi faccio vedere, abbiamo ancora un'altra busta quindi vi faccio vedere questo è praticamente farro soffiato bio al cioccolato sono croccanti chicchi di farro ricoperti al cioccolato di poggio del farro questi qui in realtà non li ho finiti però volevo farveli vedere così tolgo la busta di mezzo e perché praticamente li ho messi tutti in questa scatolina qui vi faccio vedere come sono sono fatti così praticamente sono dei cereali al cioccolato e sono buonissimi io li mangio soprattutto nello yogurt di soia ovviamente e vi leggo gli ingredienti farro soffiato zucchero di canna cioccolato fondente pasta di cacao zucchero di canna burro di cacao emulsionante lecitina di soia vaniglia naturale cacao magro in polvere sciroppo di mais olio di girasole alto leico e questi li ho presi all'oasi se non ricordo male poi ho finito questi buonissimi biscotti salati all'olio extravergine di oliva con pomodoro e origano questi ve li avevo fatti vedere su instagram in una foto perché un giorno praticamente ho pranzato mangiandomi questa intera bustina che poi non è che siano chissà quanti vediamo se ho conservato la bustina ve la faccio vedere si sta qui dentro allora questa è la bustina contenuta all'interno vabbè sembra enorme dal video ma non è enorme piccolina e buonissimi si sente ancora il profumo del pomodoro costano abbastanza mi sembra quasi 4 euro gli ingredienti sono farina di grano tenero olio extravergine di oliva 22% concentrato di pomodoro italiano 7% sale marino origano 0,5% agente lievitante bicarbonato di ammonio e ultimamente li ho presi anche in un'altra versione perché esistono in tre versioni ci sono quelli al pomodoro e origano quelli al finocchietto selvatico e quelli curcuma e coriandolo io adesso ho quelli al finocchietto selvatico però ancora non li provo quindi più in là vi dirò se mi sono piaciuti anche quelli poi ho finito vabbè la mia solita nuzzolata senza latte di regoni di asiago buonissima la devo assolutamente ricomprare e poi ho finito queste fette biscottate che sono quelle di cui vi parlavo prima che sono integrali della buidoni allora queste le ho trovate sempre in quel negozio risparmio con il gruppo VG all'interno non le avevo mai viste da nessun'altra parte io non riuscivo a trovare da nessuna parte delle fette biscottate integrali senza olio di palmo ovviamente le uniche che trovavo erano quelle della misura ho trovato queste gli ingredienti non sono male farina di frumento farina integrale di frumento destrosio olio di girasole lievito estratto di malto da orzo e mais e sale gli ingredienti mi sa che sicuramente sono migliori quelli della misura adesso ho già buttato la busta comunque ve li avevo letti comunque forse ve li avevo letti la differenza per quanto riguarda il sapore è che quelle lì della misura sono più croccanti molto più croccanti si sente proprio il rumore quando le masticate insomma queste qui sono meno croccanti però sono buonissime anche queste poi quelle sono quadrate tipo queste sono rotonde e che volevo dirvi mi sono dimenticata ah e queste qui sono più grandi quindi insomma io di solito le mangio a colazione quattro fette biscottate diciamo che con queste mi saziavo un po' di più con quelle un po' di meno però sono ottime entrambe allora poi ho finito questi biscotti digestive con avene e cioccolato allora queste in realtà non è che le ho finite solo io stavano a casa del mio ragazzo e sono buone scusate mi sto strozzando da sola allora questi si trovano al loro spin gli ingredienti sono sicuramente migliori di quelli delle digestive quelle sempre si dice così digestive quelle originali insomma allora gli ingredienti sono fiocchi da avena 34% farina integrale di frumento 22% gocce di cioccolato fondente 15% zucchero pasta di cacao destrosio burro di cacao emulsionante lecitina di soia aromi di vaniglia olio di gelatore alto leico zucchero stroppo di glucosio fruttoso agenti lievitanti idrogeno carbonato di sodio carbonato di ammodio sale allora gli ingredienti sono accettabili se andate a vedere gli ingredienti delle digestive quelle invece originali se non ricordo male non sono per nulla accettabili e anche di sapore questi biscotti sono molto buoni poi ho finito queste caramelle di di humirt naturals sur beans queste erano le caramelle che erano uscite all'interno della vegan tuck box di cui vi avevo fatto il video se me ve lo lascerò qui sopra erano delle caramelle rotonde piccoline alla frutta allora gli ingredienti non sono sicuramente il massimo sono scritti in inglese quindi non è che possa dirvi insomma benissimo di cosa si tratta perché io e l'inglese non andiamo d'accordo comunque ve li faccio vedere se riuscirete a vederli e queste sono senza glutine comunque comunque gli ingredienti sono sicuramente migliori di quelli delle caramelle normali però a me più che gli ingredienti a me non sono piaciute proprio le caramelle cioè il sapore di queste caramelle perché io le trovo piuttosto amare invece praticamente alla fine le ha mangiate il padre del mio ragazzo a lui sono piaciute tantissimo praticamente le ha mangiate lui poi ho finito questi altri cereali grano e quinoa sempre presi all'Eurospin anche questi sono buonissimi gli ingredienti sono acqua grano duro quinoa olio extravergine di oliva e sale marino e anche questi se non ricordo male sono sì sono uguali a quelli che si trovano anche al all'MD dovrebbero essere gli stessi poi ho finito questi altri cereali orzo e lenticchie sempre presi all'Eurospin e questi sono veramente buonissimi perché le lenticchie sono proprio saporite quindi a me sono piaciute tantissimo scusate se ogni tanto guardo per aria ma ci sta una qualcosa che sta volando non vi ho letto gli ingredienti scusate acqua orzo 24% lenticchie 24% olio extravergine di oliva 2% sale marino poi ho finito questa pasta di lenticchie Biori 100% farina di lenticchie rosse bio ricca di proteine e fibre senza glutine questa ve l'avevo già fatta vedere è quella che prendo all'MD ed è buonissima ormai la riprendo sempre poi la cioccolata questo è finissimo cioccolato del Perù fondente 70% questa si trova all'Eurospin ce ne sono di tre tipi una è del Perù una dell'Equador un'altra non mi ricordo comunque sono tutte e tre uguali e sono buonissime perché cioè perché gli ingredienti sono buonissimi di questa cioccolata in quanto hanno lo zucchero di canna allora zucchero di canna burro di cacao emulsionante lecidina di soia estratto di vaniglia ottima poi ho finito questi snack si e no di mais che sono vegani biologici croccanti senza glutine senza lievito non sono fritti e sono buonissimi questi sono al mais però ci sono anche no qui non ce l'ho mi sa però mi sa forse ve l'ho fatta già vedere ci sono anche al riso tra le due tra quelle al mais e quelle al riso io personalmente preferisco quelle al riso però sono buonissime anche queste al mais gli ingredienti sono mais 79% olio di mais sale marino 1% buonissime poi ho finito una confezione di lenticchie queste sono della col fiorito sono quelle da cuocere ovviamente poi questo pan bauletto integrale della mulino bianco questo è 100% integrale e mi è piaciuto molto gli ingredienti sono farina di grano tenero integrale 64,2% acqua olio di semi di girasole 4,3% glutine di frumento lievito destrozo 1,5% sale farina di orzo maltato questi io ogni tanto penso che li ricomprerò io li alterno questi quelli cereali biologici che vi ho fatto già vedere ne avevo preso anche un altro tipo non ricordo qual era comunque sicuramente negli altri video ve li ho fatti vedere io ve li lascerò tutti qui sopra e qui sotto ai video precedenti poi abbiamo quasi finito ah c'è un'altra confezione addirittura di nocciolata senza latte ci ho dato dentro praticamente con la nocciolata ho finito le mie solite noci del brasile sono queste sì buonissime prese all'oasi una barretta cranberry e fave di cacao dell'equilibra questa qui me l'aveva presa il mio ragazzo io sinceramente non l'avrei presa perché c'era qualcosa che non mi quadrava allora ingredienti arachidi 33% sciroppo d'agave anacardi 10% mirtilli rossi essiccati e zuccherati 9% ecco questa era la cosa che non mi quadrava perché ci sono i mirtilli rossi essiccati e zuccherati allora io di solito la frutta essiccata non la prendo mai zuccherata perché secondo me non c'è assolutamente bisogno di metterlo zucchero nella frutta quindi quando compro la frutta essiccata prendo sempre quella cioè mi sto impappinando insomma tra gli ingredienti ci deve essere solo scritto ingredienti mirtilli punto poi vabbè zucchero di canna olio di girasole semi di zucca uva passa uva secco olio di girasole semi di cacao spezzati 7% semi di sesamo 6% allora oltre al fatto che ci sono i mirtilli rossi essiccati e zuccherati io non l'avrei presa anche perché c'è l'uva passa e a me l'uva passa non piace in realtà però questa barretta mi è piaciuta tantissimo quindi nonostante insomma gli ingredienti non mi piacciono è stata buonissima quindi insomma se a voi può piacere se non vi interessa il fatto che ci siano i mirtilli rossi essiccati e zuccherati prendetela perché è veramente buona poi due prodotti abbiamo finito allora questi sono degli anacardi piccanti praticamente questi anche erano usciti dalla vegan tuck box allora gli ingredienti di questi sono qua è scritto sempre tutto in inglese quindi abbiate un po' di pazienza allora vabbè insomma gli anacardi zucchero sale estratto di qualcosa cipolla acido citrico paprika insomma praticamente questi anacardi erano buonissimi la cosa però che non era buona per me è che erano piccanti quindi io iniziate a mangiarli e sono andata a fuoco perché io il piccante è una cosa che non sopporto nonostante tutto però ho continuato a mangiarli perché erano troppo buoni fino a quando non sono andata a fuoco completamente quindi ho dovuto smettere e alla fine li ho fatti mangiare i miei genitori che amano le cose piccanti quindi se non avete problemi insomma di piccante non piccante questi sono favolosi poi ultima cosa questi cioccolatini gupi original questi sono sempre usciti dalla vegan touchbox ve li avevo fatti già vedere vabbè ormai sono finiti qui dentro c'era la bustina con cioccolatini allora i cioccolatini erano buonissimi li ho mangiati tutti purtroppo però gli ingredienti non erano affatto buoni per me si sono vegani però insomma praticamente la cosa che non andava bene qui è che c'è l'olio olio vegetale c'è scritto non è specificato quale olio vegetale ci sia poi c'è lo sciroppo di glucosio fruttosio e olio di palma raffinato c'è scritto addirittura poi ci sono mono o i di glicerini degli acidi grassi e insomma gli ingredienti a me non sono piaciuti per nulla i cioccolatini al contrario mi sono piaciuti tantissimo all'inizio infatti non volevo mangiarli e volevo darli scusate a qualcun altro poi però ho detto vabbè dai non fa niente per una volta li mangiamo lo stesso insomma alla fine li ho mangiati tutti quanti buonissimi e niente abbiamo finito finalmente io spero che siete riusciti a guardare il video per intero spero di non avervi annoiato spero che io visto che ho urlato questa volta mi abbiate sentito se no non so proprio più come fare e niente fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti se volete sapere qualcosa in particolare non lo so io comunque giù nell'info box vi lascio tutti i link e niente ci vediamo al prossimo video ciao